Allora, signorita, adesso partiamo, andiamo in montagna. Lei mi prepara il bambino, vero? Sì, ecco, me lo copra bene perché là fa freddo, lui è delicatino, sa com'è. Sì, la mia santa Ciccetti, adesso viene in montagna con la sua mammina e trova tanti bei bambini, si è diversa, vero? Mi raccomando, faccia presto, perché voglia andare subito, capisci?